Ci sono due modi, due modalità. Una è quella di facilitare l'arrivo e la partecipazione delle persone che hanno più problemi di fasce marginali, quindi le agenzie specializzate che organizzano persone dei cittadini devono provvedere a un certo punto economico, a un certo punto di presenza che facilita le persone che in questo modo prendono giornate di lavoro e quindi di necessario.